Ma pupao, pusirno, pusteo, sticcardia, pantasena, basto La riola, 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 la riola L'Ariolla là, sono sicuro che hai iniziato a cantare anche tu, lo sono, lo sono, ma veramente sicuro Dovete sapere, sono molto sicuro di me stesso, quindi sono sicuro che tu stai cantando E se non l'hai fatto, te lo faccio fare alla prossima Però, prima di andare avanti, innanzitutto il nostro studio dovete sapere che oggi spicca di colori vivaci C'è qualcuno con un vestito che piano piano vi spoiler, però non vi dico subito Se no mi dici tutto all'inizio e per in mezzo cosa dici Allora aspettiamo, aspettiamo per dire le cose, ma il primo applauso lo farei alla mia regia, al mio Davide Che dopo tanti anni si è rifatto vedere, grazie Davide per essere anche tu oggi qui presente Ti voglio anche a te un mondo di bene, baci Pazienza, oggi non ha portato nessun dolce Davide, però ce lo teniamo così, ce lo teniamo così Ma la vera domanda oggi era, vi giuro che ero molto indeciso tra una decina e decina di domande Però alla fine sono arrivato in studio e ho deciso di chiedervi questo Secondo voi, scorreggiare in pubblico è maleducazione? Punto di domanda, ecco Davide non sapeva la domanda, quindi saremo felici di sapere anche la tua risposta Scorreggiare in pubblico è maleducazione? Ah, iniziamo, 328-88-12506 Anche oggi aspettiamo i vostri whatsapp Sono qui con uno schermo gigante aperto per vedere cosa mi scrivete, per sentire le vostre curiosità Quindi, andando avanti, vi ricordo sempre per i nuovi ascoltatori do sempre il benvenuto E voglio chiedere a voi, come ho chiesto già prima, scorreggiare in pubblico è maleducazione? Alla fine, giuro, vi do anche la mia risposta Però, 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 però È un artista che si presenta da solo È un artista che basta presentarlo così Quando faccio rap, frag, vaghi no verdoso Signori, stiamo parlando di Clementino Cos, Cos, Cos quando faccio rap, frag bağ ha chi no verdoso quando faccio rap, frag, capa, grab a post quando faccio rap, frag, sono pericolosa quando faccio rap, frag, sono pericolosa Cosa, 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 cosa Viviamo tra pareti che si chiudono tutti in mezzo Usa il rap apposta per non fare il tipo grezzo Superfunk in una busta, sound pittoresco Un lavoratore col datore disonesto Ma sta metropolitana vintana scavata Ma sta facendo, o sta cercando O sta scingando, ma quando prendiamo Tre numeri, popangolotti, cacca, non ci stiamo Fin del posto stai facendo la fila quarta settimana Siamo aprile ma mi vuole sapare dalla casa In detrasmissione, fra ci stanno i criminali Qui Rinala, Biminala, tutta Italia per Rinala Guarda la televisione, sono tutto uguale Si programma, rosa e gagne, pure si mora a zanzara La città che sta cazzata, cacchiappata, ammazzata O sa anche San Gennaro, a stuggire, si è ghiacciata Ma a me che frid Quando faccio il rap o frate, va a chi no merdosa Cosa, 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 frate, cosa Quando faccio il rap o frate, capa una raposa Cosa, 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 frate, cosa Quando faccio il rap o frate, sono pericolosa Cosa, 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 frate, cosa Cosa, 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 frate, cosa Cosa, 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 frate, cosa Tu non hai fatto la manovra, hai fatto la retromarcia Ma ne hai guardato i spicchietti e la reta chi si schiacci Ti ricordi questa città tra mandolina e limone E c'è la scatina da giungla, ma ne va vato lì mu Frido come lì clou, pure se il sole è sicuro Tutti hai una faccia e c***o, hai rap che faccio paura E pure tu, nata carta conosciuta La vacanza, tutto, maro, vira ancora tutto scuro Coppa sti montagna, sullo fiamma, sullo damf Le magnate, te l'iccate, baffo, frate, fatto selfie Merda, caro, cornicione, galleria Vedo i più mangiati, da tv, cadinta tutto, freak mia Internet è nata a Napoli e lo sai Dalle signore sul balcone, in sucio web, wifi Come Pino e Troisi, partaroni e ento, frate E come Alessandro Siani, una risata ci ha sempre salvato Te voglio far capire Quando faccio il rap, frate, va a chi no merdosa Cosa, 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 frate, cosa Quando faccio il rap, frate, capa una raposa Cosa, 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 frate, cosa Quando faccio il rap, frate, sono pericolosa Cosa, 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 frate, cosa Cosa, 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 frate, cosa Cosa, 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 frate, cosa La motiva che da faccio capi fra quale ho il problema Masterchef, umar, Kevlin Gopo bite, certamente, espira tante sentimenti Tutto boss, buco in front, tutto salvatore cont Radeggia una mano per nasci Parterà l'undana casa mia Acaba rindo solo e aiutiamo Fratelli, tu sai mo' che aspettiamo È un miracolo paciente Signor Diena me presenti Parla per chi molto stasenta Ma un mezzo sarà lento È un miracolo paciente Signor Diena me presenti Parla per chi molto stasenta Ma tutta stracale Quando faccio raw frate Varkino merdoso Cosa, 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 Frade, cosa Quando faccio raw frate Capta una raposa Cosa, 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 Quando faccio raw frate Ascolti pericolosa Cosa, 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 Frade, cosa Cosa, 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 Frade, cosa Frade, cosa Sono sicuro che anche tu hai cantato in questo momento Sono nuovamente sicuro di me E' vero perché è quel sound che ti porta a far cantare Ah, quando faccio un retofragio, vago in overdose Davide, 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 Davide Mi piace rinxare così le canzoni al volo Signori, la domanda o l'indovinello che abbiamo proposto oggi è proprio questo Scorreggiare in pubblico è maleducazione? Volete sapere già la mia risposta? No, attendete ancora un po' Nel frattempo aspetto un vostro riscontro E allora, 328-88-12506 Ripeto il numero, salvalo bene e inizia a rispondere 328-88-12506 Secondo voi, scorreggiare in pubblico è maleducazione? Oh, 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 è qui, è qui che arriva il bello Nel frattempo è arrivata una bottiglia d'acqua Mentre stavo parlando, grazie alla regia, molto molto gentili Andiamo avanti, andiamo avanti e capiamo cosa può succedere oggi Ho detto che la playlist è molto casual La definisco così oggi È stata così, preparata al volo tra un pensiero e l'altro Però mi piace, o meglio ci piace Arriviamo in The Make, va, definiamolo così Stiamo parlando degli anni 90 Ma ad oggi, 2022, è stata totalmente trasformata Infatti è un pezzo che sta andando tantissimo Davide sarà contentissimo di ascoltare questo pezzo Stiamo parlando di sites Gimme, gimme, gimme Gimme, gimme, gimme a man after midnight Won't somebody help me chase the shadows away Gimme, gimme, gimme a man after midnight Take me through the darkness to the break of the day Gimme, gimme, gimme a man after midnight Won't somebody help me chase the shadows away Gimme, gimme, gimme a man after midnight Take me through the darkness to the break of the day A presto 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 A presto